Abbiamo creato questa piccola realtà nel centro commerciale di Cento Vetrine di Morciola. Facciamo prima di tutto personal trainer, in quanto abbiamo ragazzi specializzati in scienze motorie, con esperienza, quindi cliente che vuole iniziare un percorso serio, viene qua in sinergia con i nostri fisioterapisti, nutrizionisti sportivi, possiamo creare un percorso ad hoc per lui, per raggiungere i suoi obiettivi nel breve tempo. Altrimenti, per chi si vuole tenere in forma, facciamo il martedì e il giovedì corsi fitness, come ginnastica dolce per le persone più grandi, quindi preservando le articolazioni, Pilates, bello strong, facciamo un bel Pilates, Total Body, per tonificare tutto il corpo, soprattutto per le donne, quindi specifico, gluteo, addome. Poi facciamo cross training, un pochino più ad alta intensità, si brucia un sacco di calorie, e funzionale la sera, che praticamente riprende tutti quei movimenti che noi facciamo durante la giornata, ma ci insegna la tecnica giusta anche solo per alzare una cassa d'acqua, in maniera tale che poi nel tempo non avremo infortuni o cose varie. Come è stato un po' il ritorno in palestra da parte della gente dopo un po' l'emergenza Covid? Allora, ancora c'è un attimo di... sono un po' trattenuti, però noi qua all'interno abbiamo messo un'applicazione con la quale si possono prenotare, quindi non avremo mai più di sette persone qua all'interno, come vedi abbiamo tutta l'attrezzatura per sanificare, abbiamo l'ionizzatore, quindi cerchiamo di far stare le persone tranquille, a distanza, però di permettergli anche di venire qua, staccare e sapere che troveranno sempre un ambiente familiare, una persona con cui parlare e divertirsi anche perché allenamento è anche questo, un po' divertimento, no? Un progetto importante, la palestra è nuova di Zecca, quindi anche chi vuole venire a vederla, a divertirsi, chi può anche venire senza impegno e poi magari se gli piace decidere di allenarsi. Come no, noi siamo sempre qua aperti, orario continuato, dalle 8 alle 9, quindi di sera ovviamente, quindi poi chi vuole viene a chiedere informazioni e troviamo magari la giusta soluzione per la persona.